ma ragazzi ma hanno già fatto la mia skin non l'avevo vista che c'è il trichetto muscoloso col tutù e il correggio con scritto bob ma è letale ragazzi è bellissima sta cosa per a come si scorreggia con f ma state valutando il mio mino per piacere ma lo stai vedendo la mutanda che manomessa è bellissimo ma perché ti sei messo quella mutanda è meraviglioso ha un petto brilloso maestro oddio quanto è bella la skin del trichetto muscolosa mamma mia aspetta bob mi spiego un attimo i ruoli che ci sono così almeno se uscite con quel ruolo capite easy allora il dodo bird è quello che deve essere votato cioè quello che si deve si vuole far votare per primo ok è quello che vuole essere votato fuori tipo giro ma quello che trolla poi c'è l'ingegnere che può usare l'event però anche non essendo ovviamente impostore poi c'è il bounty che c'è scritto rewards if killed forse poi non ho capito come la taglia se viene la taglia ok la taglia poi c'è il vigilante che può uccidere una mechanic goose che può detectare i sabotaggis poi c'è il medium goose ragazzi che vede i fantasmi ma che poi c'è il cannibal duck che mangia i cadaveri il tono il ball duck sarà tipo un mezzo impostore il suo ruolo è quello di togliere i cadaveri no 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 il cannibal duck è uno dei due impostori e cannibale e dopo aver ucciso può mangiare il cadavere di quello che ha ucciso per nasconderlo è pazzesco che so una simple goose bello mio ragazzi l'animazione la puoi craftare voglio scoprirla voglio scoprirla le altre voglio più capire più che altro come fai a farmare gli oggetti è bello più che altro perché è un obiettivo sul farming cioè non è fine a se stesso un cazzo cristo cosa è successo che ho fatto ragazzi non sono in grado di fare l'indifferenziata ok ctc titti titti io che irle non non so farmi non mi toccate non mi toccate cazzo ma bene fate voi e di ma vieni com'è che che papera 6 di ma come che papera sono questa figlio di puttana ragazzi ragazzi devo dire una cosa scusatemi ho chiesto ma che papera 6 e lui fa come che papera sono questa è appena detto questa avete chiamato il cadavere questa sono quello che camminavo dietro di te dai no non ho capito domanda rega di mai stato tutto il tempo con me non può rima di ma sei di ma si va chiamati ha bisogno di fare la domanda insensata dov'è una cosa in mezzo steto ha bottolato quindi o è l'ingegnere o l'imposte non si sa però ha bottolato però davanti a tutti sì no l'ha fatto proprio davanti a perché c'è uno che può buttola così tanto regali safe e safe quello te lo dico io chi è che può coprire qualcun altro io schifo erano con me in luci e belle votazioni delle papere sotto graficamente meraviglioso ragazze per dirlo al marzone comunque vuol dire che è bello ok andiamo a fare il nostro giro ciao donne come stai cazzo sto incubando donne sto incubando l'uovo ma tu cosa sei se il meccanico ok meccanico vede tipo da dove attiviamo le cose io ho messo il fare night no 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 quando prima mi hai chiesto io sono il vigilante ok io posso io posso uscire anche se non sono impostore per quello ah ok io non posso schiacciare niente turn up crank fatto ma c'è ancora sbagliato aspetta di ma vai a sistemare qualcosa si va subito si va subito a mandare un messaggio ma che cazzo sta dicendo quella dov'è che si fa il se è il marzone impazzisco no no è Dima ma Dima si è parlato più a un secondo fa e Dima ce l'avevo dietro tipo marzone è all'interfono? si 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 prima si ho sentito un tremone volare allora io l'ultima persona che ho visto è l'ufficioso che ha tirato dritto ha trovato il cadavere dove più o meno? stavo andando a cercare l'interfono per vedere il marzone ma ho trovato il cadavere in mezzo era al centro della mappa davanti security e medica no security allora ho visto l'ufficioso correre verso l'alto e subito dopo ha chiamato il cadavere di Dima quindi non so effettivamente è l'unica cosa che ho visto eh non so se ci sono botole lì un disastro io per questa kill clear ho Junk e Kree Junk è il medium e Dima era il vigilante credo che è quello che possa uccidere esatto anche se non è altro allora Dima Dima se mi senti Dima mi devi cercare dopo posso parlare con te Dima dove sei? Dima se mi senti sporca l'acqua esatto è diventato coso che cazzo how's going bro? hey yo bro how you doing bro? great one becca a te sto Bob Delu perché mi stai seguendo? aspetta che devo incubare devo incubare 29 secondi no no ti prego vai vai andiamo andiamo no no qui 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 Patrice dove sei? che cazzo l'hai già provata a fa? non l'ho mai fatta non ce l'ho bro non impossibro eh zi non l'ho prima non l'ho capivo sto provando a trovare qualcuno che me la spiega eh non lo so è tipo a colori vabbè sti cazzo scherzo non lo capisco boh no 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 come si fa? ufficio ecco mi toccare no no non ho niente contro di te non ho fatto aiuto aspetta attaccati un muro magari ti aiuto aspetta ok posto ho iniziato ma non parlo ma non ci vede no ragazzi non ci posso credere è veramente Giammo? sei morto? si è ma che figlio di bustana che ruolo avevi te Dani? io sono una copera di merda non ho nessun ruolo dobbiamo trovare chi è che vede i fantasmi il miglio io ero io il medium è Gianco è Gianco ma l'hanno sceso ah dove? ho avuto qualcosa di brutto ma regà figlio di puttana io entro in una tasse il maestro che fa eh no mu lo ha mai si muta e finisce la marzo zio vera t'ho sentito dai e si dai se mi dici che stavi a di però quel ma mu lo ha ma era per me era per me male però da solo non sapevi manco che c'è stavo io ma che è sto i video degli olon diciamo ah regà no ma però c'ho paura che ora il maestro possa essere quello là il troll che se vuole fa butta fuori io voto il ragazzo io voto il maestro stava da solo in una stanza entro io e si sta muta vabbè se il dodo lui ha fatto il suo ha giocato bene se tu l'ha vinto così dici se si fa buttare fuori finisce la partita vince il dodo non ci credo magari magari ha solo più punti eh vediamo sono in gronda ti ho vinto il maestro no way vabbè bellissimo ma ragazzi ma che cazzo state leggendo questo è un best gioco ma è devastante ma Gianmarco Gianmarco che era impostore ma si si era impostore ma sei un clown ma come Gianmarco era impostore vai a fare in quel che gli ha fatto vincere ragazzi vi rendete conto che se questa cosa ci fosse stata su Among Us avrei vinto 750.000 partiti per farmi buttare fuori sono tipo d'altro d'oro grazie a tutti